Il festival, proprio per il suo impegno, perché molti dei film sono girati sul campo, distratte dalla realtà e su evolversi, dunque il festival avrà la possibilità davvero di aprire un panorama variegato a pubblici di possibilità, ai giovani che presenteranno i loro figli di concorso, a persone più addirittite, dubbiose, del mondo. Grazie. Perfetta. A posto? Grazie.